pace fratelli e sorelle buona giornata questa mattina leggiamo nel libro della genesi capitolo 19 leggeremo i versi da 12 fino a 38 è un passo molto interessante nel quale vediamo gli angeli che erano andati a visitare la città di sodoma e che vennero accolti da lotto a casa sua vediamo questi angeli incoraggiare a dir il vero quasi costringere lotto a uscire dalla città di sodoma affinché potesse salvare la sua vita dalla distruzione che stava per manifestarsi su quelle città lotto viene innanzitutto investito di un incarico che è quello di andare a comunicare ai generi quello che il signore stava per fare egli gli disse alzatevi uscite perché il signore sta per distruggere la città ma ai generi parve che volesse scherzare ancora oggi il vangelo viene predicato e viene predicato con uno scopo quello di permettere alle persone di salvare la propria vita salvarla da cosa da quello che è il giudizio di dio che presto si abbatterà sull'umanità il problema è che tanti reagiscono esattamente come il genero di lotto pensano che vogliamo scherzare o pensano che sia tutto uno scherzo tutto un grande blef e proprio per questo siccome non prendono sul serio gli avvertimenti che vengono dati rischiano di perdere la loro vita eterna perché se l'invito del vangelo non viene accorto nel proprio cuore inevitabilmente il giudizio di dio si manifesterà su coloro che rimarranno impenitenti e non si ravvederanno dei loro peccati stava per arrivare l'alba e gli angeli sollecitano lotto e gli dicono alzati prendi tua moglie le tue figlie perché tu non perisca nel cascrivo di questa città lui induggia forse perché voleva convincere i generi forse perché era preso dalla situazione non lo sappiamo lui induggia e allora gli angeli lo prendono per la mano lui sua moglie le sue due figlie e lo portano via lo mettono fuori dalla città è quello che il signore gesù vuole fare in ognuno di noi egli vuole prenderci per la mano e tirarci fuori dal peccato dalla corruzione di questo mondo dalla superbia dall'arroganza dall'egoismo dalla malvagità dalla violenza che c'è intorno a noi ci vuole prendere per la mano noi con la nostra famiglia e tirarci fuori permettiamo al signore di farlo non pensiamo che in questo mondo ci sia qualcosa per cui valga la pena rimanervi non pensiamo che in questo mondo possiamo trovare benessere o gioia o pace o tutto che stiamo cercando nel mondo di oggi come nel mondo di sodoma di allora non c'è nulla di buono e noi vogliamo con tutto il cuore ascoltare l'appello e l'invito che ci viene rivolto ancora questa mattina esci esci allontanati non lasciarti e prendere dalle cose di questa vita guarda al monte perché lì c'è la salvezza fu questo quello che venne detto da quegli uomini metti la tua vita al sicuro non guardare indietro non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo al monte perché altrimenti parirai il monte sì quel monte dove gesù duemila anni fa venne preso e affisso su una croce era insieme era c'erano insieme a lui due ladroni i quali vennero o anch'essi messi su quella croce loro giustamente gesù ingiustamente e fatto che quei due fossero giustamente affissi alla croce non è un qualcosa che diciamo noi ma è un qualcosa che uno dei due il ladrone penitente disse all'altro quando questi ingiuriava gesù perché lo stai ancora maltrattando per noi è giusto trovarci qui su questa croce ma lui non ha fatto nulla di male sì perché gesù era colui che è il giusto che stava morendo per gli ingiusti era colui che non conosceva peccato che si stava caricando dei nostri peccati ed ecco perché l'unica salvezza si può trovare al monte lì dove gesù è stato offerto come mezzo di riscatto per la salvezza dell'umanità e ricordiamoci ancora noi questa mattina che se vogliamo scampare la vita nostra dall'imminente giudizio di dio dobbiamo rivolgere il nostro sguardo verso il monte calvario laddove gesù ha dato la sua vita non si tratta di un luogo fisico sia chiaro non si tratta di fare un pellegrinaggio lì a gerusalemme per salire sul golgota ma si tratta semplicemente di aprire il cuore all'amore di gesù cristo che ancora oggi ci ricorda che egli si è donato affinché chiunque credi in lui non perisca ma abbia vita eterna cerchiamo scampo fratelli e sorelle cerchiamo scampo perché il mondo cerca di attirarci con tutte le sue illusorie gioie con i suoi piaceri effimeri ma noi sappiamo che la vera gioia la vera vita si trova soltanto in gesù cristo quello che avverrà sarà terribile lo sarà per la moglie di lott perché mentre lott appunto ascolterà il consiglio degli angeli e insieme alle sue due figlie comincerà a camminare e uscire allontanandosi sempre più da sodoma e continuando a salire sul monte che lo porterà fino a luz la moglie non ascolterà quel consiglio ma si girerà indietro e guarderà verso la città di sodoma e rimarrà lì ferma come una statua di sale o che nessuno di noi si fermi ma che tutti quanti noi come l'apostolo paolo scriveva si protenda in avanti per poter afferrare ciò per cui è stato anche afferrato non guardiamo ciò che abbiamo lasciato guardiamo a ciò che cristo sta preparando per ognuno di noi nel cielo non guardiamo a quello che è dietro a noi ma alziamo lo sguardo verso l'alto per guardare a ciò che è davanti a noi fratelli sorelle i tempi si stanno abbreviando il tempo del ritorno del signore si sta avvicinando paolo nello scrivere ai romani dirà è venuto il momento che vi svegliate dal sonno perché la salvezza c'è più vicina di quando credemmo e aggiunge ferventi nello spirito dobbiamo servire il signore questo dobbiamo fare cari essere ferventi nello spirito e servire dio secondo i talenti che ognuno di noi ha ricevuto senza lasciarci influenzare dalle mode anche quelle religiose ma guardando e seguendo il vangelo della grazia che è l'unico che dona vita eterna coraggio fratelli ancora oggi forse il mondo verrà e ci sussurrerà dei possibili piaceri di questa vita però peccaminosi noi li vogliamo allontanare e vogliamo riconfermare la nostra fedeltà e la nostra consacrazione a gesù cristo in modo da poter ricevere un giorno la corona della giustizia che la grazia di dio la sua pace il suo amore sia con tutti quanti noi pace del signore dio ci benedica insieme grazie a tutti 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 grazie a tutti